Permangono episodi di assembramento e uscite ingiustificate. Il comune di Pavia ha lanciato un nuovo appello per richiamare i cittadini al rispetto delle odole, essendo stati segnalati numerosi casi di uscite in gruppo, passeggiate in famiglia lungo le sponde del Ticino, anziane a passeggio e in aumento dei runners. Qualcuno utilizza le panchine del Viale Alverato di Viale Matteotti per gustare una birra in compagnia, ma adesso le istituzioni locali sono costrette a rimarcare con più severità che si deve uscire da casa solo per comprovate, urgenti e non rimandabili necessità. Non è pertanto consentito utilizzare l'animale domestico come alibi per allontanarsi troppo dalla propria abitazione e si vietano i raggruppamenti sempre e comunque. Chi non rispetta le regole rischia sanzioni amministrative e penali. Ogni violazione sarà segnalata all'autorità giudiziaria.